In Giappone abbiamo denunciato i crimini finanziari degli psichiatri e degli ospedali che derubavano il governo e i contribuenti. I colpevoli furono puniti e gli ospedali vennero chiusi. E negli Stati Uniti il CCDU ha scoperto una frode di un miliardo di dollari da parte della catena di ospedali privati per la salute mentale più grande della nazione. 600 agenti federali hanno condotto raid in 20 stati, dozzine di procedimenti giudiziari, milioni di multe imposte e un'intera catena di ospedali corrotti hanno dichiarato bancarotta e sono stati permanentemente chiusi. Dietro ogni avvertimento per il pubblico sui farmaci psichiatrici che vedi oggi vi è il CCDU. CCHR ha documentato i effetti di queste droghe, ha portato evidenza per la FDA, ha venuto al Congresso, ha obiettato congresso. È stato 13 anni prima che l'Agenzia ha finalmente admittuato che queste droghe possono causare il suicidio e ha lasciato un'attività di bloc-box. Abbiamo avuto neve le leggi stati che si è passate. Dopo quello, c'è l'introduzione del Medication Safety Act del 2004. Negli ultimi tre anni ci sono stati più di 50 avvertimenti da parte di agenzie per il controllo dei farmaci a livello internazionale che denunciavano i pericoli degli psicofarmaci. La storia ci ha detto che ogni metodo lavorabile che potrebbe essere usato per aiutare le persone che sono seriosamente disturbi, che hanno bisogno di alcun tipo di trattamento, è stato spesso e spesso dall'interno dell'interno della psichiatria e dell'industria farmaceutica. Il pubblico ha iniziato a ottenere informazioni dall'industria che beneficia per mettere i droghe psichiatrici. È un'advertising campagna, non è la scienza, è il marketing. CCHR è causato le cose a cambiare per essere championi per un migliorno di persone che sono rischendo loro professionali per rispondere agli abusi di psichiatri. La supporta di un gruppo come questo ha fatto una grande differenza in cui mi sento, personalmente, che ho avuto l'accomplice. I pensi di CCHR come i nostri soldi. Non è vero di ogni organizzazione che fa il tipo di lavoro che CCHR fa, soprattutto sulle scopi e le livello che hanno fatto. CCHR è stato molto effettivo per muovere la balla sul campo, uno a una volta, uno stato a una volta, uno legislatore a una volta. CCHR ha avuto i risultati per poter insegnare e per avere i legislatori diventare più aware del problema con le droghe psichiatri. Oggi il CCDU ha oltre 300 succursali in dozzine di nazioni attorno al mondo. Dovunque e comunque ci sono abusi psichiatrici dei diritti umani, il CCDU porta il suo messaggio nelle strade. Dagli Stati Uniti al Giappone e dal Canada fino al Regno Unito, membri prominenti del CCDU conducono marce per assicurare la protezione e la libertà dagli abusi psichiatrici per tutti. E' essenzialo che CCHR fa il suo lavoro e ha il supporto per fare il suo lavoro perché l'attente a cui lo faccio, il tutto veicolo che è out di controllo di psichiatri deve essere contenuti e deve essere eliminati. Mi ha scattato a pensare se questo non succede. Ho visto a vicino cosa è come, e lo scattato a pensare. Tu hai 100,000 persone electroshocti ogni anno, tu hai 17 milioni di bambi di bambi e la vita di bambi e la vita di bambi e la vita di bambi di 75 secondi e è tutto nel gunde di mentalità. La prima forma che tu hai una domanda trattata in questo sistema è di prendere la scuola e la vissera di sviluppo da l'initi e non tu hai chiunque attraversa di mentalità You hai due choices. Tu hai oltre 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 con la con la con la con la è una responsabilità. E' per questo che siamo qui. E' per questo che le persone si uniscono le forze con la CCHR. E' per questo che siamo qui.